Cari amici, benvenuti in questo video dedicato a Yandere Simulator. Come ogni anno, anche stavolta Yandere Dev ha rilasciato delle canzoni in natalizie. Addirittura sono due, andiamo subito a vederle insieme per scoprire di cosa si tratta. Magari qualcuno di voi le aveva già viste sicuramente, però non avete visto la mia reaction e io non le ho ancora viste, quindi sarà esattamente la mia reazione così come è quando vedo una cosa per la prima volta. La prima canzone, quella uscita il 24 dicembre, si intitola My Love is Stronger Than You ed è una parodia che mi fa pensare che c'entri qualcosa, Steven Universe, ma vediamolo subito insieme. Mettiamo i sottotitoli perché almeno capiamo tutto quello che si dicono e andiamo. Sì, è chiaramente la musica di Steven Universe, quella cantata da Garnet, Stronger Than You. Bene, ottimo inizio Yandere. Eccolo inizio Yandere. Go ahead and try to stop me if you're able, I've got lots of sneaky options on the table. I can ruin someone's social reputation, or just make them face brutal damnation. I'll make sure to go to class and study, burn my clothes and wash up if I'm bloody. I'll be sure to let those martial artists teach me, so not even teachers can restrain me. Stay away from my senpai. Senpai 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 Un po' inquietante Ayano, alcune parti sono state riprese dall'intro. Anche questa, tipo. Piccola Ayano innamorata. E se solo non fosse psicopatica sarebbe anche simpatica, se non fosse un idiota sarebbe quasi accettabile. Ma come dalla fontana, ma perché? Ah, è giusto. Hai ragione anche lei, eh. Sì, Sciagliano. Sì, Sciagliano. E lui non si è accorto che sto seguendo da 20 minuti. Sì, dai. Ci sta, ci sta tantissimo. Oh, povera Gianna. Michela Laws è la doppiatrice di Ayano. Ha fatto un ottimo lavoro. La canzone originale di The Black Sugar. Eh sì, certo, perché è quella di Stima e gli Universe. Benissimo. Direi che ha fatto un ottimo lavoro, ma ce n'è un'altra. Senpai It's Cold Outside. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Oh, che carini. Non andare fuori, senpai. No. È freddo fuori. No, non lasciare Ayano da sola. È Natale. No. No, senpai. È vero, è tutto il tempo, ma dove vai? Cosa c'è in quel tè? Non lo vuoi sapere. Vivi qui? No. Chi si può sola? Stai con me? Ha ragione. È perché dirmi di no? È veramente caldo qui all'interno. Non posso rimanere. Ma rimani. Oh, ma è freddo. Se ne hai accorto che fa freddo. Dai, dai, chiudi quella porta, senpai. Dai, chiudi la porta. Bevi il tè. Povera piccola Ayano. Sei anche messa tutta carina, posta. No. Non dovresti fare in modo che una yandere insista e percorrere la sua. Eh, infatti. C'è una tempesta di nero. Quando la vai? Nah. Lascia perdere, Rosana. Sure. Lasciala stare, tanto siamo ragazzo. Cosa? Non c'è freddo, dove vai? Eh, infatti. Perché dove lasciarmi andare? Ma cosa? Oh no Oh no l'ha addormentato Non si può dire che Ayano non sia la donna risposta A fare qualunque cosa Per l'uomo che ama Anche questa doppiata da Michela Lose Bravissima devo dire ottimo lavoro Anche il doppiatore di Senpai è stato molto bravo Comunque c'è da dire almeno Ayano è riuscito a tascinare Senpai in casa sua E questo è già una cosa che sicuramente Le ha fatto bene Ma vorrei farvi notare che c'è la pallina di vetro alle spalle Di Ayano Senpai che contiene Osana e mi domando come mai Ayano tenga in casa un Osana sotto vetro Perché io pensavo la tenesse sotto terra ma va bene lo stesso Quindi ragazzi da questa reaction Alle canzoni natalizie di Yandere Dev è tutto ancora Buone feste da Kiri Andere E da Ayano Aishi che è riuscito a Tappolare Senpai mi domando Se sarà un buon risveglio sulla sedia Bendato, imbavagliato e con le mani legate Ciao E mi raccomando trattate con affetto i vostri Senpai Anche quando sono legati alle sedie Chiusi in qualche sacchetto oppure addormentati Ciao 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 Grazie a tutti.